Musica Ben trovati alla seconda edizione del TG6, si è conclusa da poco a Civitella del Tronto la giornata organizzata dalla regione intitolata Fonderia Abruzzo, dedicata ai progetti e alle idee per il futuro. A prendere parte all'evento tutti i rappresentanti istituzionali, stakeholder, associazioni, sindacati e imprenditori. Francesca Romana Testi Questo è un incontro destinato ai progetti e alle idee, soprattutto ci sarà la sottoscrizione di una firma molto importante. Da un lato quello che è stato l'incontro con il premier Renzi, oggi quali saranno i temi principali? Ci sono le imprese, ci sono le espressioni del mondo delle autonomie locali, c'è l'università, c'è l'associazione editoriale e sindacale. Certo gli abruzzesi sono 1.320.000, qui oggi siamo 1.000 persone, ma funziona la rappresentanza. Io dico che qui c'è l'Abruzzo che ha da dispiegare un progetto di vita, qui c'è l'Abruzzo della comunità e l'Abruzzo dell'ordinamento. Poi racconteremo agli abruzzesi che ogni giorno fanno mille cose, giustamente, come stiamo impiegando il potere e le risorse finanziarie. Io ho partecipato personalmente a tre tavoli, due dei quali riguardano la filiera ambientale, il primo legato al tema della mitigazione del rischio idrogeologico, quindi tutto ciò che riguarda la prevenzione e la protezione civile. Abbiamo approfondito non solo le tematiche, ma anche con il mondo del volontariato abbiamo affinato alcune modalità di intervento nell'ottica del perseguimento di quelle direttive nazionali che abbiamo peraltro adeguatamente ripassato, non più di due giorni fa, in un convegno dove era presente anche il capodipartimento Curcio. Abbiamo approfittato della presenza del direttore della struttura tecnica di missione sul dissesto idrogeologico Mauro Grassi, proprio per condividere insieme agli attori locali, che poi sono i sindaci, le difficoltà che si stanno avendo nella progressiva attuazione degli interventi, ma che sono in via di soluzione. Credo che quelle delle attività europee, della ricerca di fondi europei, di normativi europei, credo che sia un punto fondamentale. Oggi si naviga e si può avere, con questa navigazione, attraccare, avere dei fondi solo se si conoscono determinati percorsi. È uno studio che abbiamo fatto insieme alla Camera di Commercio, alle università, a tutti i portatori di interesse, c'erano anche molti privati, aziende private, che hanno sempre di più bisogno di conoscere, ma anche gli enti locali, come si approccia a un finanziamento di carattere indiretto e di quelli diretti. Ce ne sono tanti, sui fondi che noi gestiamo, quelli regionali, PORFERS, FES, quelli dell'agricoltura, sono un po' leggermente più facili, ma c'è tutta una miriade di fondi diretti che bisogna conoscere, fare aggregazioni con i comuni, con le macro regioni, affinché si possono, come ho detto prima, agganciare questi finanziamenti. E l'arrivo del sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri Claudio De Vincenti per la firma del patto per lo sviluppo era uno dei momenti più attesi della giornata. Vediamo. Per quanto riguarda l'Abruzzo si parla di patto di sviluppo e si parla di una regione che ha bisogno di molti incentivi. In questo caso il suo arrivo cosa significa? Significa la conferma del lavoro che stiamo facendo, che ricordava il Presidente, la costruzione del patto per l'Abruzzo. Questa settimana che viene abbiamo l'incontro con la regione per avviare operativamente l'attuazione del patto, quindi gli incentivi per l'industria, le infrastrutture, le politiche ambientali, le politiche per il rilancio dell'attività culturale e turistica della regione. Questa fortezza è un esempio straordinario di un patrimonio a disposizione dell'Abruzzo e dell'Italia. Parliamo di trasporti. Dura replica del consigliere delegato Camillo D'Alessandro che ha le polemiche montate dal Presidente di Confindustria, Agostino Ballone, sul bilancio dell'Azienda Unica di Trasporti. La tua ricorda l'importante apporto dei fondi regionali nei confronti proprio della Baltur. Ascoltiamo. Intanto parla il Presidente Confindustria o parla Ballone, titolare di un'azienda di trasporto pubblico locale? Perché la sua duplice veste fanno sì che ci sia un gigantesco conflitto di interesse. Non so se lui o qualche altro sperava di poter acquistare ai saldi di fine stagione le società pubbliche, ma noi per missione istituzionale e per convinzione politica abbiamo il dovere di salvaguardare il patrimonio pubblico, dei valori e del valore che avevano e che oggi è a tua, che avevano le tre società e oggi è a tua. È straordinaria questa posizione di Ballone che appunto grida secondo me allo scandalo per il fatto che parla uno che ha chiaramente degli interessi. E poi credo che ci sia un limite anche nel merito delle questioni che pone, perché lui parla di libero mercato. Il primo ad operare a non operare nel libero mercato sono gli attuali concessionari di trasporto pubblico locale privati al pari di tua, perché avevano concessioni date nella notte dei tempi e sempre prorogate senza gara, quindi Ballone riceve circa 2 milioni di euro la regione per fare il trasporto pubblico locale nella città di Teramo, che è molto più facile farlo nel centro urbano di un capoluogo che andare a prendere la gente a Pizzoferrato piuttosto che nel comune più impervio della nostra regione, che noi facciamo. Quindi da un mondo di stessa efficienza forse siamo più efficienti noi perché andiamo a prendere i cittadini 1, 2, 3, anche in comune impervio è molto più facile farlo all'interno del centro urbano di una città, dove comunque si percepisce esattamente gli stessi soldi che percepisce Stua nelle stesse modalità. E a Teramo ieri pomeriggio si è parlato del nuovo codice a Palti con l'intervento del Vice Ministro a Infrastrutture e Trasporti. Riccardo Nencini, obiettivo la certezza sui tempi dei lavori e sui pagamenti. Ascoltiamo. Dalla carenza progettuale, carenza di finanziamenti e troppi ricorsi alla magistratura, si era inaugurata una fase abbastanza lunga per la quale un'opera pubblica in Italia non aveva né un inizio né una fine e il codice risponderà positivamente. Porterà la certezza che un lavoro pubblico ha un inizio e una fine certa. Lo facciamo avendo previsto il progetto esecutivo in sostituzione di una progettazione più vaga che era prevista nel vecchio codice, la certezza di finanziamenti e soprattutto nella riduzione delle stazioni appaltanti la possibilità di avere poche stazioni e ben formate, quindi all'altezza di gare d'appalto anche significative. Il codice contiene senza dubbio delle forti innovazioni e delle marcate semplificazioni. Come tutte le innovazioni ha bisogno di essere recepito da parte delle stazioni appaltanti, che hanno bisogno di conoscerlo, di praticarlo, di metterlo in pratica. È in dubbia la spinta del nuovo codice verso una possibile riduzione del contenzioso. Certo, sicuramente la pluralità delle fonti sotto questo profilo non ci aiuta. Gli enti locali si trovano di fronte a parametri rigidi, a patti di stabilità, a carenza di liquidità e naturalmente non riescono sempre a far fronte con puntualità a pagamenti in favore delle imprese. Ultimamente, per quello che era mia conoscenza, la situazione era migliorata, per lo meno per l'ente provincia, tutto sommato non stiamo andando troppo male con i pagamenti. Però effettivamente è un tema che va affrontato perché, soprattutto sulla parte degli investimenti, bisognerebbe avere più flessibilità. A Pescara il consigliere comunale di Forza Italia, Vincenzo Dincecco, pone all'attenzione il problema ordine pubblico dell'area attorno alla moschea di Via Pisa. Paolo Renzetti. Consigliere Dincecco, c'è un problema a Pescara che riguarda la moschea di Via Pisa o c'è anche un po' di strumentalizzazione? Allora, a Pescara io credo che ci sia un problema che riguardi tutto il quadrilatero centrale, a partire da quello che sta accadendo in questi giorni, in questi locali che sembrerebbero essere appunto luogo di culto perché se ci passate vi rendete conto con i vostri occhi di quello che accade quotidianamente. C'è un problema legato alla presenza di tantissime persone che bivaccano nell'area del Terminal Bus, c'è un problema legato a alcuni edifici occupati, ad esempio in Via Chieti e anche in altre zone del centro della città, c'è un problema di Piazza Santa Caterina dove avviene tutto il controridutto, tutte le ore del giorno e soprattutto la domenica, c'è un problema di sicurezza e degrado che riguarda il centro della città. Nello specifico in quella parte, cioè in Via Pisa, accade da tempo un fatto su cui noi vogliamo porre un po' l'attenzione perché i cittadini si lamentano per una presenza ingente di persone che in tutti i giorni e in diverse ore della giornata frequentano questo luogo che dovrebbe essere il luogo di un'associazione culturale, la sede di un'associazione culturale ma non si comprende perché più di 150-200 persone in molte ore della giornata si affornano lì dentro, si levano le scarpe lungo la strada, si mettono a pregare dentro questa struttura e allora il sindaco ci dica se quello è un luogo di culto, se così fosse noi risponderemo ai cittadini e gli diremo sì, quello è un luogo di culto, altrimenti dovremmo prendere dei provvedimenti perché non è possibile che una sede di un'associazione diventi un luogo così frequentato dove addirittura in alcune ore, in alcuni momenti della giornata si pranza, si ciba e tutto poi viene riportato sul marciapiede. E sempre a Pescara il Movimento 5 Stelle non abbassa la guardia sulle problematiche di via caduti per servizio, il consigliere Domenico Pettinari esprime preoccupazione anche su un eventuale aumento dei canoni per le case di edilizia popolare. Consigliere Pettinari siamo in via caduti per servizio come tante altre volte per parlare delle problematiche di questo quartiere, lei nelle settimane scorse aveva sollevato anche il problema e chiesto un intervento della Regione per quanto riguarda l'edilizia popolare, ci sono delle novità che sono emerse proprio negli ultimi giorni? C'è un rischio che la Regione più volte ha presentato una legge, il PD regionale, per vendere e alienare le case popolari a canone sociale ed eventualmente, abbiamo parlato con l'assessore Di Matteo, lui ci dice costruirne altre al canone concordato. Che significa questo? Che il cittadino che oggi paga un affitto basso di 20, 30, 40 euro al mese perché non ha reddito e magari ha una famiglia a carico, domani potrà essere costretto a dover pagare per rientrare nella casa popolare 250, 300 euro al mese di affitto. Questa è una cosa allucinante che non si spiega in nessun modo, noi siamo riusciti con una grande opposizione a bloccare questi provvedimenti in Regione Abruz, ma ci chiediamo fino a quando ci riusciremo? Poi torna prepotentemente il problema di sicurezza, ordine pubblico e occupazioni abusive. Qui c'è un problema che si spaccia droga quasi ogni giorno sotto i porticati, sotto le case popolari, i cittadini non ce la fanno più, non mandano più i figli sotto a giocare, le persone oneste. C'è un problema di occupazioni abusive, ci sono oltre 15 casi di case occupate abusivamente, persone che tante volte sono criminali, pluripregiudicati che privano a chi ne ha diritto di stare all'interno degli alloggi comunali. I problemi si sono e aumentano sempre di più, questa gente merita di più, ha diritto di essere tutelata, le istituzioni purtroppo continuano ad essere assente, tranne noi del Movimento 5 Stelle che ci siamo sempre stati e ci continuiamo ad essere. E parte la riorganizzazione a Pescara del Centro Destra Unito, l'iniziativa è partita dal Movimento Politico Pescara in testa e dall'Associazione Pescara Prima. Obiettivo comune presentarsi uniti alle prossime elezioni. Consigliere testa, oggi parte un programma nuovo per il Centro Destra di Pescara, una riorganizzazione di tutto il Centro Destra e si parte proprio dal suo movimento. Oggi è un primo passo per rigenerare, per creare nuove condizioni di compattezza, nuove condizioni programmatiche per ridare spazio a un Centro Destra nuovo nella nostra città e non solo. La lista civica Pescara in testa insieme all'Associazione Pescara Prima vogliono incominciare proprio a lanciare messaggi chiari, forti e netti perché il popolo del Centro Destra ci chiede compattezza e ci chiede dei segnali. In un momento in cui la giunta Alessandrini ormai penso che sia arrivata al capolinea e per non dare ulteriore spazio al Movimento 5 Stelle e al Centro Sinistra abbiamo deciso di incominciare questa nuova cavalcata a tre anni di anticipo dalle prossime elezioni. Sarà un incontro che si baserà ovviamente sui contenuti, sulle proposte, sulle idee, sulle grandi incompiute, sulle grandi problematiche della nostra città. A tre anni dalle elezioni proprio per fare in modo che possano crescere anche nuove figure di donne e di uomini per il rilancio definitivo del Centro Destra. Torniamo a Teramo. Si svolgeranno tra fine luglio e primi di agosto i lavori per la bretella che collega la zona della Gammarana con il 8-0. Dureranno una settimana. Ascoltiamo nel servizio il primo cittadino, il sindaco Maurizio Brucchi. Sindaco, procedono i lavori per il terzo svincolo dell'8-0, quello della Gammarana? Sì, siamo nella fase conclusiva, cioè della costruzione della rotonda. Adesso bisogna lavorare sull'8-0, quindi c'è un'interferenza. Io avevo promesso e garantito ai Teramani che l'8-0 non avrebbe chiuso e così sarà perché i lavori si faranno di notte. Per cui nella giornata l'8-0 resta aperto, i lavori dureranno all'incirca una settimana lavorativa e l'inizio lavori è fra l'ultima settimana di luglio e la prima di agosto. Definiremo nei prossimi giorni bene la data di inizio. L'opera è quasi completata e presto potremo fare anche, potremo tagliare questo ulteriore nostro per una bretella, per uno svincolo secondo me molto importante perché fa riferimento ad una zona, quella della Gammarana, che è la zona, diciamo, la parte di territorio Teramano che nei prossimi anni avrà maggiore sviluppo. Quindi sicuramente la bretella dell'8-0, questo svincolo, aiuterà questa parte della città a crescere e a svilupparsi. Il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco, nei giorni scorsi ha visitato il centro storico di Loreto Aprutino, ancora le prese con le problematiche post-sisma. Vestina News. È una realtà veramente importante, diciamo complessa dal suo punto di vista, non solo architettonico ma anche ambientale, con delle esclusive, contrariamente a quello che qualcuno ha voluto rappresentare, un centro storico che si sta invece ritrovando rispetto a una dimensione che deve essere anche considerata dopo il terremoto del 2009. Quindi vale a dire un'amministrazione comunale che sta facendo di tutto per tornare a rivivere pienamente il centro storico, riacquisendo pienamente gli spazi anche del comune, della chiesa di San Francesco. Come provincia di Pescara oggi ho potuto anche rilevare e poter anche raccontare ad altri, soprattutto al governatore della regione, chiedendogli anche di sostenere pienamente le azioni dell'amministrazione comunale. Oggi è una giornata importante per il sindaco di Loreto perché ha potuto mostrare il nostro centro storico che nonostante, diciamo, male informazioni, con tutte le difficoltà cerchiamo di tenerle. Credo che una comunità come Loreto non avere come rappresentanza una sede municipale adeguata dopo tanti anni dal sisma e questo perché il decreto Berlusconi escludeva il finanziamento per l'edisa pubblica. C'è stata una ricognizione operata dal presidente della regione Luciano D'Alfonso e ha presentato delle istanze, soprattutto richieste economiche, affinché ci potesse essere finanziamenti. Ripartendo col complesso municipale si dia un segnale importantissimo ed essenziale per far capire che l'amministrazione, ma soprattutto i cittadini di Loreto, tengono al loro centro storico, lo vogliono far vivere. Ed è stata inaugurata ieri ad Atri la mostra Steel of Peace, primo appuntamento e la doppia mostra di arte contemporanea in programma da ieri e fino a domani, domenica 10 giugno. Andrea Costantini. Parlare di pace attraverso l'arte, attraverso la cultura. In un momento particolarmente dedicato per l'Europa è ancora più attuale la rassegna che è stata inaugurata ieri ad Atri, Steel of Peace and Everyday Life, frammenti di pace e di vita quotidiana, giunta alla sua terza edizione, una sorta di maratona culturale con 24 artisti, una rassegna di cinema d'autore e tanti art talk che hanno la Francia come soggetto principale. Primo appuntamento, due collettive, due mostre d'arte contemporanea da ieri e fino a domani, curate da Claudio Pisano alla Cattedrale di Atri e da Antonio Zimarino a Palazzo Acquaviva. Abbiamo visto che gli artisti sono amalgamati in una maniera straordinaria e sono rappresentativi un po' di realtà italiane e anche sono di diverse generazioni, quindi sicuramente una mostra molto ricca di stimoli, molto ricca credo di intelligenza, poi lo dirà il pubblico, però penso che darà parecchio interesse e parecchi stimoli intellettuali. Grandissima partecipazione, l'alto patrocino della regione Abruzzo, la fondazione Aria, la fondazione Tercas di Teramo, poi abbiamo il patrocino dell'ambasciata francese, in Italia oltre a tantissimi altri sponsor che ci danno una mano da anni perché questo progetto continui a migliorare e continui ad avere sempre più importanza. La cultura, lo scambio culturale è un elemento di pace in un'Europa che ha tantissimi problemi, Europa che ha tantissimi problemi e che però con queste iniziative si ritrova, ritrova lo spirito vero, cioè lo spirito di stare insieme, di mettere insieme le migliori energie. Adesso ne parlano tutti, persino il governo ha deciso di finanziare le attività culturali insieme alle attività in difesa dal terrorismo. Quindi, in qualche misura, Aria è stata un po' un'avanguardia perché già alcuni anni fa ha deciso di stabilire queste relazioni tra popoli molto lontani con questa idea di scambi di pace. Ed è in corso in questi giorni la festa della pizza a Mociano Sant'Angelo, giunta alla ventitresima edizione, il consolidato evento apre il cartellone di eventi estivi del comune Terramano. La ventitresima edizione è una delle ricorrenze estive storiche che caratterizza il nostro calendario dell'estate mocianese. Quindi anche quest'anno l'allestimento in piazza, le pizzerie locali, ci auguriamo che ci sia tanta gente, è partita bene martedì sera questa ennesima festa della pizza che inizia con questa tradizione il nostro calendario estivo. Ecco, il calendario estivo è molto ricco, quali sono gli altri eventi previsti? Allora, partiamo appunto, come vi dicevo, con la festa della pizza. Noi abbiamo degli evenimenti importanti sia per luglio che per agosto e tra l'altro il nostro calendario estivo è steso perché noi lo consideriamo concluso con la festa dell'uva, quest'anno la 59esima edizione, addirittura che si terrà la terza settimana di settembre. Quindi avremo per esempio a luglio, sabato 23, una presenza importante. Si esibirà la banda di Montone di Perugia con la quale c'è un gemellaggio in corso. L'anno scorso la nostra banda è andata a trovare questa associazione in Umbria, quest'anno saranno loro ospiti del nostro paese. A fine luglio proporremo una novità quest'anno, un'iniziativa che si chiama Tesori di Sera, quindi itinerari alla scoperta dei nostri beni di carattere culturale e storico e anche dei nostri prodotti del territorio. Quest'anno apriremo, in quella ultima domenica di luglio, tutti i beni del territorio, dalle 19 alle 24, l'orario continuato. Le nostre associazioni del territorio, ma anche per esempio i giovani della delegazione del FAI di Teramo, terranno aperti i siti, accoglieranno i visitatori. E dal 18 invece al 24 luglio prossimi Civitella del Tronto ospiterà nuovamente un borgo di birra. La rassegna internazionale di birre artigianali è street food. Civitella del Tronto dal 18 al 24 ospiterà questa manifestazione appunto denominata il borgo di birra. È alla terza edizione questa manifestazione, sta crescendo, già dall'anno scorso abbiamo notato una grande affluenza di turisti. La particolarità poi di quest'anno che aggiunge ancora maggior fascino a questa iniziativa è il fatto che ci sarà un'apertura in notturna della fortezza, per cui nei giorni 22, 23, 24 la fortezza sarà visitabile unitamente anche agli altri musei cittadini, anche durante l'orario notturno. Ci sarà la possibilità di fare delle visite guidate in fortezza, quindi poter apprezzare anche il valore storico e architettonico della fortezza. Quest'anno crescono anche le birre, oltre 60 birre sempre artigianali, sia italiane che straniere. In particolare non ci siamo neanche dimenticati dei celiaci. Per loro infatti sono previste due birre in particolare. Aumentano anche i punti gastronomici, sempre diciamo della zona, con ognuno dei quali porterà e appunto preparerà dei prodotti tipici, locali. Anche per i celiaci ci sarà una pizza a loro dedicata, in particolare preparata dalla vice campionessa mondiale della pizza appunto senza glutine. Il percorso che comunque si è oramai costituito sempre ad anello, ma viene allargato, si arriva fino in fondo al corso quest'anno, con la fortuna di poter entrare in una delle dimore storiche appena restaurate, che è il Palazzo Procaccinisari. È una dimora rimasta praticamente perfetta, come era nel Seicento. Sarà possibile inoltre entrare in alcuni locali di quella che era la casa di Luigi Vinci Guerra. Restano sempre aperte le scuderie che avevamo già iniziato a recuperare negli anni passati, quindi c'è una maggiore attenzione anche nella possibilità di far visitare luoghi normalmente chiusi al pubblico a chi farà questa lunga passeggiata intorno a Civitella. La birra, il cibo, quella che è un pochino la nostra storia, tutte unite fanno di questa rassegna un unicum che la rende un pochino diversa da quelle che si trovano in un tiro. Passiamo ora alla pagina sportiva. Visite mediche stamani per due neocalzatori biancazzurri, il difensore Cristiano Biraghi e l'attaccante Ray Manai. I due giocatori sono arrivati a Pescara nell'operazione che ha portato Caprari all'Inter. Intanto il terzino Crescenzi è un giocatore del Pescara a titolo definitivo. Il giocatore non era stato riscattato a giugno, ma il Pescara ha acquisito dalla Roma il cartellino per 300 mila euro. Alessandro Crescenzi potrà proseguire la sua esperienza in biancazzurro. Ieri è stato trovato l'accordo tra Roma e Pescara. Il difensore laterale torna in rival Adriatico, stavolta a titolo definitivo, per 300 mila euro. Solo per questioni formali di bilancio, il Pescara giorni fa non aveva esercitato l'opzione. La Roma aveva il diritto alla contro-opzione. La volontà del giocatore e della società era di restare alla corte di Massimo Oddo e così sarà. L'operazione completa così il parco dei terzini, con la coppia Zampano-Vitturini a destra, Biraghi-Crescenzi a sinistra, sempre considerando che Crescenzi può giocare tranquillamente anche a destra. In rosa al momento anche Antonio Mazzotta, il cui destino è tutto da decifrare. Ora resta da sistemare il settore centrale, dove in organico ci sono Campagnaro, Fornasier, Zuparic e Coda. Considerato che Zuparic potrebbe partire e che Coda e Campagnaro, i quali sono senza dubbio giocatori di categoria, rappresentano incognite sotto il profilo degli infortuni, servirebbero un paio di tasselli. Di particolare credimento di Oddo, l'esperto atalantino Guglielmo Stendardo, anche se il primo obiettivo è lo slovacco della Roma, Norbert Gionber, che però ha un ingaggio piuttosto alto, da 700 mila euro annui, che si potrebbe aggirare se il club di Pallotta partecipassi al pagamento. Restano attuali altri obiettivi, come il brasiliano Rodrigo Eli del Milan, il croato Marco Lescovic del Rieca e l'ex mobido Dekité, ora svincolato. Il nome nuovo nella lista è quello di Cesare Bovo, che vede gli spazi restringersi dopo l'arrivo al Torino di un ex obiettivo del Delfino, come Arling D'Ageti. Sostanzialmente sistemati, almeno per ora, i settori di portiere e centrocampo resta da rifinire l'attacco. Intanto, sul fronte delle uscite, il Pescara è al lavoro per la cessione di Andrea Cocco. Dopo averlo valorizzato a Vicenza, Pasquale Marino spinge per averlo nella sua nuova squadra, il Frosinone. L'attaccante caliaritano andrebbe in prestito con obbligo di riscatto in caso di pronto ritorno in Serie A dei Ciociari. In entrata, dopo l'arrivo dall'Inter, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto di Reimanai, il prossimo arrivo potrebbe essere quello del figlio del Ciolo, Giovanni Simeone, nazionale sub-20 argentino, di proprietà del River Plate. Per il grande nome, i sogni sono sempre Osvaldo, Matri e Pinia, ma se ne potrebbe riparlare per fine mercato, quando il Pescara potrebbe avere condizioni più vantaggiose per compiere un sacrificio economico. Ed è stato presentato a Pescara il primo Memorial Tom Rosati, in ricordo dell'indimenticato allenatore del Pescara. Vediamo. Pescara ricorda Tom Rosati e lo fa con un Memorial patrocinato dal Comune di Pescara, un'iniziativa importante. La Pescara Sud ci ha promosso questo evento, quello di questo primo Memorial Tom Rosati. Noi con molto entusiasmo abbiamo accettato, con la collaborazione della USA, di Pescara Assistenza, anche dell'Avis, proprio perché per ricordare innanzitutto le geste sportive che lui in tanti anni ha donato al mondo del calcio, ma in modo particolare per ricordare soprattutto la funzione di uomo, di coraggio che a quei tempi non era poco. Tom Rosati ha fatto la storia del Pescara, ha riportato il Pescara in categorie importanti. Come diceva lei, probabilmente nel calcio di oggi non si troverebbe benissimo. Questo Memorial ha un progetto sociale, ha un progetto di ridare valore al mondo dello sport attraverso i valori veri che lo sport vuole dare, soprattutto ai giovani. Proprio il giocatore, dalle stesse parole, trasmise questo messaggio che non solo quel scappellotto, quella carezza un po' più forte, gli portò benefici non solo in campo sportivo, ma anche sul lato umano di uomo. E dopo la mancata iscrizione del Lanciano al torneo di Lega Pro, nonostante ci sarebbe tempo, fino al 15 di luglio prosegue incessante il lavoro del sindaco Mario Pupillo. La notizia che in qualche modo ha veramente deluso i tifosi e ha lasciato a bocca aperta è quella dei maio che si fanno indietro con il Lanciano. A questo punto si chiede l'intervento del primo cittadino, di Mario Pupillo. In questa situazione quale può essere il destino della squadra? Sicuramente fino al 15 di luglio c'è sempre una piccola speranza che qualcuno possa acquisire o continuare l'esperienza Virtus, considerando che il prolungamento di una settimana determina solo la penalizzazione di un punto del campionato di Lega Pro. Non è molto facile immaginare una soluzione, ma ci speriamo. E poi come sindaco sto valutando l'imprenditorialità locale e regionale che si possono effettivamente costituire un nucleo capace di poi portare a termine il progetto di o una nuova Virtus o di una nuova società. Se l'aspettava un epilogo come questo? Guardi, non me l'aspettavo sicuramente, però capisco che noi abbiamo vissuto una favola calcistica bellissima e come tutte le favole, anche le favole finiscono. Certo, magari non mi sarei aspettato in questo modo, magari in un modo più soft, meno brusco, che avesse permesso a tutti noi di lavorare con maggiore tranquillità. Però noi dobbiamo essere anche grati a chi per otto anni ci ha fatto vedere lanciare il grande calcio. Quattro anni per una città di 36 mila abitanti. La Serie B non è cosa da poco, rimarrà nella storia. Ed è tutto per questa seconda edizione. L'appuntamento con l'informazione di TV6 torna puntuale alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento. Grazie.